Ciao, io sono Gaia, ho 16 anni, vengo da Terni e sono qui per recitazione, la mia disciplina è recitazione. Da quanto tempo studi recitazione? Dall'anno scorso. Quindi un anno. Un anno che studio recitazione, sì. Brava. E faccio sia teatro che cinematografia. Il teatro è come fosse il modo in cui io mi sento davvero Gaia. È l'unico posto al mondo dove posso esprimere me stessa. Papà. Allora, i miei si sono separati quando io avevo sei anni e mezzo, più o meno. Fin da piccola io ho sempre avuto un rapporto molto complicato con mio padre. E io ho sempre fatto tutto per difenderlo, ho sempre cercato di mettermi al suo posto per capire i suoi punti di vista, per mettermi nei suoi panni. Lui non ha mai apprezzato niente di tutto questo. Io vorrei che lui capisse tutto quello che io ho fatto per lui. A me basterebbe solo questo, che lui riuscisse a vedermi. Io quando ero piccola cantavo sempre la canzone di Mia Martini, gli uomini non cambiano. E mi ricordo che già 4-5 anni io la cantavo e quando fa Sono stata anch'io bambina di mio padre innamorata. E mi ci vedevo tanto in quella canzone. Io vorrei dirgli solamente che gli voglio tanto bene, che se anche penso di aver fatto troppo, io per lui comunque ci sarò sempre. Perché l'amore che io provo per lui è comunque infinito. E sarà sempre così. E sarà sempre papà. Ok. Sei pronta per The Coach? Sono pronta. A farci emozionare come hai fatto adesso con la tua storia? Ti farò emozionare. Io vado a seguirti perché sono molto curiosa. Perfetto. Ha salvato Biancaneve, lo farò morire di sanguato. Alla casina dei sette nani andrò io e assumerò tale aspetto che nessuno mi riconoscerà. Ed ora un filtro che trasformi la mia beltà in orrore. Polvere di mummia per invecchiare. Cacchì di strega la voce per arrotire. Turbine di vento, l'odio verrà nebbiare. Ed ora filtro, tu mi devi mutare. La mia voce. La mia voce. E nessuno mi riconoscerà. E ora che morte potrò dare a tanta bellezza? La mia voce. 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 Il suo sonno mortale! Volevo fare i miei complimenti all'attrice perché credo che ha dato un'interpretazione davvero bella ed emozionante. Grazie. Grazie.